Spirito Natalizio con Camino Allora, mi hai detto che quando fai la forma, dalla parte destra mi sembra, senti il gomito pesante, dall'altra parte non lo senti Allora, la forma, la prima forma, la Siluntao, si racchiudono 108 movimenti Quando tu fai la forma, questo movimento qua lo fai tre volte, ma perché? Perché devi avere la consapevolezza proprio di avere il gomito, è come se tu hai il gomito appeso Metti il braccio così Se tu hai il braccio così, io cosa faccio? Se faccio Tansa non faccio questo Questo è sbagliato, senti che non sono pesante? Devo fare questo Adesso è molto diverso Sì, devo pesare il mio braccio Un esercizio per far sentire il peso del braccio, oltre alla forma La forma, gli esercizi devono essere spacchettati Cosa vuol dire? Devi fare movimento per movimento Tu ti puoi mettere così e rimanere là, chiudendo anche gli occhi, sentendo il peso del tuo braccio Devi sentire tirare la spalla Perché alla spalla praticamente i muscoli tirano il braccio verso il basso E rimani così, e senti il tuo peso Qua uguale, tac, senti il tuo peso Devi rimanere un po' così Prova, guarda Da qua Diù Ok, adesso porta in avanti un pelo il gomito Ok, rilassati, rilassa le gambe Scusami Ok, ci sei qua Senti Senti sul piede? Sì Ok Il problema cos'è? Il problema è che il segreto Ci sono due o tre segreti nella vita, non nelle guincioni Uno di questi è l'accettare Cioè devi accettare di lasciarti andare Perché? Se tu mi prendi al collo e io faccio questo, io in realtà non ho il gomito pesante. Perché? Perché il movimento viene dato in automatico e io non ho il gomito pesante, sia di qua che di là, è uguale. Se faccio questo, con questa mano qua, se faccio questo non ho il gomito pesante, se tu insisti, prendi veramente, se tu insisti succede questo. Perché il movimento non è dettato dal relax, dal mettere avanti il braccio, ma in automatico a livello di ego si vuole avere il controllo. Cioè io voglio spostare il tuo braccio perché voglio controllare cosa fai. Se tu vuoi avere il controllo su quello che fai, all'inizio ci sta, perché devi avere il controllo, come guidare una macchina. Se poi vuoi avere il controllo, è sbagliato nelle arti marziali, perché io non posso controllarti. Se io voglio controllarti, sbaglio approccio, proprio sbaglio strada. Se tu mi prendi alla gola, l'approccio giusto è questo. Senti che il mio braccio pesa. Sì, molto pesante, e poi anche spostato. Ok, se io invece voglio toglierti, vai, faccio questo, guarda. Senti che per un attimo io faccio forza contro forza e tu mi tiri indietro. Allora, qual è il problema? Il problema qui, all'inizio, potrebbe sembrare che è il movimento. Che movimento? Ma dietro il movimento ci sono... Il movimento è la punta dell'iceberg. Dietro al movimento ci sono tutte delle strategie, a livello psichico anche, che tu se non mantieni i propri principi, quel movimento risulta inefficace. Quindi all'inizio tu la forma, le forme le fai per avere il movimento. E ci sta. Poi una volta che tu hai memorizzato il movimento, non te ne frega più niente, lavori a livello un po' più interno, più sottile. Quindi senti il tuo peso. In modo tale che se io sto facendo la forma, sto facendo un esercizio con te o con l'altro, o mi devo difendere da una persona che mi vuole picchiare, ci sono sempre io e il mio approccio è sempre uguale. L'errore che si fa invece è, ok, faccio la forma, sono tranquillo. Faccio ciclo lapsa, sono un po' agitato, devo fare a botte, sono nervoso. È sbagliato. La forma non ti forma solo per il movimento, ti forma anche a livello mentale. Tu devi avere la stessa calma della forma quando fai a botte. Quando fai a botte, quando ti aggrediscono. Hai capito? È quello l'errore. È un modo difficile. Non è difficile, ci vuole un duro lavoro. Non è difficile. È un lavoro di coltivare, devi coltivarlo. Tutto è difficile, se viene fatto bene tutto è difficile. Ok? Perché se fosse facile lo saprebbero fare tutti. Ok? Quindi il difficile in realtà cos'è? Il duro lavoro cos'è? È il prima, non il dopo. Cioè il mettersi qua e sentirsi. La percezione. Lo senti il tuo gomito? No. E allora stai lì fin quando non lo senti. Ok, adesso lo senti. Ah, cavoli, sì, lo sento. Perfetto, allora lavora su quello. Ok, perfetto. E lavori su quello. Ok, quello che manca. Quello che manca. Sì, quello che non hai. Perché la gente fa la forma così. Le forme. Ta, 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 ta. Qua non c'è niente, eh. Non c'è gomito pesante, non c'è spinta. Ta, ta, ta. Questo è il movimento. Io potrei fare la forma anche così. Tac. 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 Questo è il movimento. Però c'è il gomito. Tac. 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 Non c'è differenza, eh. Fermami il braccio. Prendimi il braccio. Ok, non farmi andare indietro. Tac. Senti. Senti che fai forza. Da qua, non farmi andare avanti. Tac. Senti? Tac, 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 tac. Però questo movimento, tipo, ma appena guardi fuori non si vede che cosa fa. No, non si vede. Non si vede perché all'inizio si vede il movimento, no? Va a step. Primo step, secondo step, va a gradi. Come la scuola? All'asilo, alle elementari. C'è gente che rimane bloccata alle medie. Se tu rimani bloccato alle elementari e alle medie, come la fai? Perché litigano così. Litigano come quando litigavano da bambini. Ok? Allora cosa succede? Mettono la tecnica. L'altra volta abbiamo visto la tecnica, in realtà, arriva fino a un certo punto. All'università, anzi ai master, non ci si allena più la tecnica, ma si allena al principio. Quindi tu adesso dovresti allenarti al principio. Ti metti là. Tac. 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 E devi sentire. Tac. Perché poi, in realtà, facciamo danci. Ti faccio sentire, guarda. In realtà, all'inizio è questo, no? Tac. Tac. Questa è tecnica. Tac. Senti. In principio c'è poco inizio. Poi cosa faccio? Inizio a mettere dei principi. Spingo. Tac. Gomito. E sono là. Adesso vado avanti, spingo col piede il gomito. Senti. Fai già, ciao. Tac. Ok. Tu vieni verso di me. Faccio bong. Così. Vedi, qua non è il gomito pesante. Questo. Devi andare sul primo quarto di polso. Giro. Vengo verso di te. Tac. Ok. Così. Fai i cambi, guarda. Vedi, questo non è niente. Questo c'è il gomito. Tu vieni verso di me. Apri, apri la mano. Vieni. Tac. Non fai così? Ok. Jat. Tu fai questo. Non c'è gomito qua. Spingimi indietro. Ti allunga, allunga il braccio. Oh, guarda. Rifai. Tac. Tac, 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 tac. Senti che... Adesso sento molto pesante. Spingo con questo. A me questa non mi interessa. Questa qua scivola dopo. Non mi interessa questa. Capito? Sì. Infatti, se tu adesso qua allunga la mano, ce la fai. Oh. Perché sono qua. Senti? Quindi si ritorna. La forma te lo fa sentire. Il principio gomito, linea, te lo fa percepire. L'esercizio lo mette alla prova. Dico, va bene, Tarindo. Vediamo un attimino se tu hai il gomito pesante e tutto. Ok. Vai. Tac, tac. Senti? Vuol dire che ti manca la spinta del piede su... Sì, sulla mano. Fai bonk, so? E di qua ce l'hai, per esempio. Qua va bene. Senti? Il problema è che dobbiamo testarlo. Quindi tu vieni verso di me. Tadà. E poi fai bonk. Oh. Adesso sì. Tu, quello che non devi mai togliere, sono i principi. Hai capito? Devi allenarti su quello. Fai tan, so? Tadà. Ok. Vieni a prendermi. Così, così. Tac. Ok. Hai la testa troppo in avanti. Ok. Fai bonk. Tadà. Questo. Senti? Questa roba qua ci deve essere sempre. Fai ciclo l'apsa. Tadà. Perché qua non ce l'hai più? È come se io faccio la forma e ho tutti i principi. Tu mi tiri il pugno, vai. Faccio il biuso e vado indietro. Perché non ce l'ho più? Perché ho pensato alla tecnica al biuso. Ma che me frega? Pugno. Guarda. Spingo coi piedi, anche se rimango fermo. Perché lo faccio già nella forma. La forma ti forma a livello invisibile. Non si vede dal video. Sembrano cavolate. Hai capito? Devi venire per forza a provare, a sentire. Il maestro dice che quando vanno lì dall'estero dicono che lui ha le braccia d'oro, no? Perché questo? Perché in realtà devi percepire, devi sentire. È un detto, è un detto cinese. Perché se io non ti faccio sentire, tu dal video non vedi. No, anche io prima volta, come l'ha fatto prima, era Sri Lanka, è un paio di anni un tempo qua, e non neanche sentito, non è che niente. Però subito, appena toccato, senti la differenza. Differenza, è certo. Quella che è per questo. Si deve trasmettere solo, esclusivamente in questa maniera. Non posso parlarti e basta, devi sentire. Quando si fa ciclo lapsa, la forma a questo serve. Vai, lap, tu devi stare qua. Qua lo perdi un po'. Rilassati, rilassati. Adesso ce l'hai. Senti? Per mantenere questo. Devi mantenere. Ma sai che cos'è? Che la gente sbaglia perché pensa all'altro. Se mentre facciamo ciclo lapsa, vai, io penso a te, oddio, adesso mi attacca, mi fa questo, mi fa quello, mi fa l'altro, mi fa questo. E io non sono concentrato su di me. Se tu mi vuoi tirare un pugno, non tiramelo con te, tirami un pugno che vuoi, vai, fregami, vai. E io cerco di capire dove tu tiri il pugno. Ho bisogno di pensare. Infatti cosa succede alla gente? Vai indietro. Perché ho bisogno di pensare. Pugno? Devo vedere, devo pensare cosa fare. Se invece io non penso a te, ma penso a me, quando arriva il pugno, io faccio il movimento, basta. Non ho bisogno di andare indietro. Devo pensare a me. Quando si fa Cisao, io non penso, oddio, chissà cosa fa adesso. Io penso a me. Nella mia testa c'è il gomito pesante, guarda, linea centrale, guarda, tac, 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 tac. Questo penso, penso a me. Penso ai principi e a me. La linea, tac, 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 guarda, tac, vai, tac, tac. Ta, 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 guarda. Io penso a me. Dell'altra persona non mi interessa nulla. Non mi interessa nulla. Penso che quello è molto importante. Allora, è importante e ti dirò una cosa. Sai perché i cinesi sono più bravi a questa cosa qua? Perché proprio per cultura hanno un'integrità più solida di noi. e hanno un pensiero sul loro stessi. Poi adesso, vabbè, sta cambiando un po' anche là. Però loro, se succede qualcosa, non dicono, eh, ma vedi? È successa sta cosa, è colpa di quello. È colpa di quello. È colpa dell'altro. È colpa di quello. Loro invece dicono, ascolta, aspetta un attimo. Forse è colpa mia perché se l'altro ha fatto così è colpa mia. Pensano a loro stessi. Quello che tu hai fuori, in realtà, è un riflesso di quello che tu hai dentro. Quindi se tu sei su di me, se tu pensi sempre, oddio, adesso, se io dovessi pensare, oddio, come mi attacca, cosa devo fare, cosa devo, allora, come mi attacca, io smetto di esistere. Dove sono io? Se io penso sempre a te, io dove sono? Dove sono in quel momento che penso sempre a te? Colpa dell'altro, colpa di questo. Ti voglio controllare, voglio controllare. Ma come faccio a controllarti se il primo che non si controlla sono io? Il Cisau, in realtà, opera a livello anche psicologico, anche psichico, emotivo. Devo controllare le mie emozioni, anche. Perché poi quando lo fai a livello, mamma, 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 devi controllarti. Quindi nel Cisau tu devi pensare solo e esclusivamente a te. Stop. Alla linea, hai capito? Sì. Alla linea centrale, pensa alla linea, ta, ta, al gomito, ai passi. Lo so che non è facile, sembra facile, ma non lo è. Tac, tac. Tac, tac. Io lo sento che tu stai pensando ad altro. Lo percepisco. Non è che lo sei, lo percepisco. Tutto l'allenamento delle arti marziali va a percezione. Devi sentirlo. Ci sono anche degli elementi ad occhi chiusi, anche le forme, pa, pa, devi sentirle. Non devi vederle, non devi farle. Le forme non devi farle. Devi sentire la forma. Una cosa è, che ne so, vedere qualcosa là, no? Una cosa è chiudere gli occhi, una cosa è toccarlo, una cosa è chiudere gli occhi e... Ok, allora, questa ha la forma così. È diverso, lo percepisci. Quando poi lo utilizzerai, saprai esattamente com'è la forma. Sì. Hai capito? Non è facile. Quindi qua, tu a cosa devi pensare? A gomito pesante, senti, alla spinta. Bravo, adesso hai fatto una roba giusta. Tac, tac. Devi pensare a te. Io sono soltanto un mezzo per farti migliorare. Tu mi devi usare per migliorarti. Io non posso migliorarti. Se utilizzo quello, pa, 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 io quello lo utilizzo perché devo migliorare io. Non perché devo far vedere agli altri che so tirare i pugni. Che cazzo me ne frega di tirare i pugni? Cosa me ne frega agli altri di cosa pensano? È più importante quello che pensi tu di te, non degli altri. Che te frega? Ok? Quindi le arti marziali insegnano questo. Senti, tata, io sento rigidità da schiena. Ok, rilassati. E poi pensa. Pensa a tutte le cose che devi fare, no? Tadà, qua adesso io ti do il tempo di pensare. Gomito pesante, linea, alta. Vedi qua? Allora, abbiamo detto il segreto è giocare e devi essere disposto a far sì che io ti prenda. Perché se io faccio a botte, no? Sì. Ok, stiamo combattendo. Io non sono disposto a farmi prendere. Appena tu ti muovi ho paura. Tu tiri un pugno. Non mi voglio far prendere. Eh no. Io devo essere disposto. Tu ti muovi, io mi muovo. Ok, se succede qualcosa faccio. Se vengo preso e vado giù, amen. E' andata così. Se invece ho paura, sicuramente verrò preso. Funziona così. Quindi tu cosa devi fare? Devi essere in grado di accettare il fatto che io ti possa prendere. Eh, lo so che è difficile. Perché c'è la rigidità. Prendimi tu, prendimi tu, vai. Quando vuoi prendimi. Vai. Prendimi come vuoi, ti puoi anche staccare. Mi faccio prendere, vai. Ta ta, ta. Vai, come vuoi. Prendimi, prendimi, frega, mi frega. Ti puoi staccare, fai fare quello che vuoi. Vai, prendimi. Vedi che io non faccio niente quando mi prendi. Ta ta ta. Faccio vedere, ti prendo io, eh. Guarda, guarda come ti rigidisci. Quello devi combattere. Devi combattere. Perché poi c'è uno schema che sono le tre F. Flight, fight o freeze. O scappi, o combatti, o ti congeli. Eh sì. E' quello che praticamente il cervello rettiliano ti dice di fare. Adesso, vabbè, questo è un esercizio. Non è un combattimento vero e proprio, ma è quello che ti succede. Se dovessi iniziare a bam. Beh, guarda. Vedi com'è. È quello che devi controllare. L'allenamento controlla quello. Sono movimenti che tu devi controllare. È la mentalità di combattimento che ti devi togliere. Se no, tu non t'alleni mai. Ti faccio vedere una cosa interessante. Perché se no. Allora. Lo scriviamo qua, no? Ti ricordi questa qui, il cerchio? Ok. Allora. Tu hai l'allenamento? Sì. Ok. Che ne so. Su dieci ore di allenamento ne fai di allenamento. Quindi allenamento vuol dire allena la mente. Forma. È l'allenamento fisico. Forma. Pensi al gomito, alla linea. Pensi alla spinta. A coordinare le braccia. Alla torsione della spina dorsale. La yuma. Tutto l'allenamento. Dieci. Dieci ore di allenamento. Combattimento. Sai perché l'hai chiamato combattimento? E qui. Adesso si apre un mondo. Sai perché l'hai chiamato combattimento? Contro chi si sta combattendo? Con me stesso. Combatti? Mento. Stai combattendo con la testa. Con la tua testa. Non contro l'altro. L'altro non c'è. Se tu pensi sempre al combattimento durante l'allenamento. Non ti stai allenando. Stai combattendo. E quindi tu non ti sei mai allenato. Hai capito? Cioè se noi facciamo Cisano, no? Sì. Io penso di farlo così. Pam 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 pam. E combatto. Sì. Io il problema che poi quando trovo uno fuori che mi vuole fare un mazzo così, un culo così. Io non mi sono mai allenato. Perché ho sempre pensato a combattere anche quando mi allenavo con te. E lì vado in panico. Faccio le stesse cose della palestra ma quello lì non è schematico e mi butta giù. Ok? Quindi l'allenamento serve perché io voglio migliorare la mia macchina, il mio corpo, perché poi quando devo combattere non devo pensare. Qui penso. Qui non penso. Non c'è pensiero. 5 più 6 quanto fa? 11. Ok? Una cazzata. Se io inizio a fare Cisano così, non farti prendere. Fammi boh fammi 6 più 7 vai. 6 più 7 vai. Stai fallo. Fallo 6 più 7 vai. Senti che? Un caos della madre. Non ce la fai più. Non riesci più a capire. E questo è un esercizio. Non è una cazzata. Pensa a uno che ti vuole massacrare. Pam, 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 pam. Non riesci più a pensare. Hai capito? Quindi tu devi combattere la tua testa. Non c'è l'altro. Qui quando facciamo Cisano io non ci sono. Io sono soltanto un modo per farti migliorare. Quindi qui puoi pensare. Gomito. Ok. Ta 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 ta. Ok. Ta ta ta. Vabbè mi ha preso. Vabbè amen. Ok. Perché mi ha preso? Forse non avevo la linea. Ok. Qui mi ha ripreso ancora. Porca miseria. Devo far bonks. Ok. E questo? La testa? Stai pensando? Penso. Se noi invece a livello facciamo questo qua. Ta 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 ta. Qua pensi meno. Ti do meno da pensare. Non c'è tempo. Non c'è tempo da pensare. E questo è un esercizio, è una cazzata. Pensano che inizia a tirarti dei pugni, ti butta giù, sangue. Capito? Eh. Quindi qua, l'allenamento ti serve per pensare a ta ta ta. Tieni a livello al centro. Rilassati, rilassati. Poi usiamo quello. Vai, fai qualcosa. Vai. Ok. Fai ancora qualcosa. Ok, vai. Ta, vai. Cosa ha fatto? È la forma questa. Ma io penso ai principi. Senti cosa succede? Se invece ho paura di essere preso. Tienimi giù. Tienimi giù con questa. Ok, anche con questa. Adesso con questa qua mi molli e mi tiri un pugno. Ok, veloce. Qua. Vai, veloce. No, però tienimi giù. Vai. Ok, vai. Guarda. Questo che cos'è? Questa è la paura. Tienimi giù. Prendimi. Questa è la paura di essere preso. Invece tienimi giù. Vai. Quando vuoi, gomiti avanti. Perché so quello che faccio, sono sicuro. È l'insicurezza che ti porta a... Oddio, cosa devo, oddio, cosa devo fare? Perché hai avuto una mentalità poco allenante, ma molto combattiva durante l'allenamento. Quando tu combatti, hai una mentalità poco combattiva, ma più allenante. Tu mi vuoi attaccare, vai. Cosa faccio? Ma che cazzo non so cosa fai? Qui non ti devi allenare. Buono, non c'è da pensare, vai. Funziona così? Eh, lo so che è difficile. Adesso ci alleniamo un bel po'. Quindi qua, allenamento, tu stai allenando la mente ai principi. Poi ci sono i passi, puoi fare quello che vuoi, però senti, sono tutti i principi qua. Io non so cosa sto facendo con le braccia, sinceramente non mi interessa. Guarda, tac, tac. Ok. Guarda. Blocchami questo. Ok, piemi con quello. Guarda. Vai. Poi ognuno di noi ha delle rigidità. Devi vedere, devi capire quali sono le tue. Beh, che io tengo sempre i gomiti avanti, non c'è bisogno di colpirti, non mi interessa. Se ti colpissi, cioè se io ti colpirei ogni volta, ti metterei ancora più paura. Io non voglio metterti paura, perché se ti metto paura, già sei rigido, diventi ancora più rigido. Succede un casino. Sapriamo un po' che fa caldo. Hai capito? Non c'è bisogno di mettere paura. Se io ti inizio a colpire, ah, bah, 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 oppure esercizi dove, so, vai, faccio questo. Bam, 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 bam. Non serve a niente. Non serve a niente. Ne a te serve, ma soprattutto a me. Perché non ti do modo di esprimerti. Io qua ti dico, ok, tu fai quello che vuoi. Io cerco di essere più radicato possibile ai principi. Non mi interessa. E ti guarda. Ok, vai, fai qualcosa con questo, ok. Il CIS è un gioco. È come la vita, è un gioco, la vita è un gioco. Se smetti di giocare, è come se sei morto. Eh, lo so, vai. Sai che pesano 700 kg le mie braccia. Non smettere di aver la pressione in avanti. Questa roba qua, senti? Eh, devi sempre averla. Questa devi sempre averla. Non è questo. 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 Oh, hai. faccio da gara mi ha detto ok grazie a pugno ok perché lasciati lasciati fare come questo tratta tratta e tirami giù vai tirami giù e mi lascio fare, non c'è bisogno di, guarda come fai tu, tirami giù, tu vuoi stare su, ma perché? Accetta che l'altro ti fa, fai giù, intanto adesso cosa mi puoi fare tu? Niente, degnato il cazzo. Ma metto la gamba avanti, buona, quando mi vuoi prendere, guarda, non accetti, non accetti, mettiti così, guarda, senti, quello devi fare, fai tu a me, fai una finta, quello che vuoi, quando vuoi dammi una spinta, vai, vai quando vuoi, è dura lo so, o dai una spinta dalla vera, non lo so, vai, vedi che io mi faccio fare, è dura lo so, devi andare contro quella cosa, perché se no è un problema, non accetti che l'altro tipo si possa muovere, qui c'è questo il duro lavoro, non il tasso, il box, ma che, è una cazzata sta roba qui, in confronto, è una cavolata, e sono elementari, hai capito? quindi dobbiamo un attimino, tutto piedi, piede, 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 oh scusami, sento una tonnellata anche questo, va, avanti, ok, qui, se stai uscendo la schiena cadi, oh, ci vai, divertiti, vai, adesso prendiamo il caffè, vai, lapsau, senti qua, se mi lasci le mani ti arrivano addosso, metti questo qua, la lasceresti questa mano? no, così, adesso, sì, così sì, se faccio questo, se arrivo, eh, senti, ta ta ta, vada, eh, 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 vai, avanti, ok, questo, vai, vai, metterlo, vai, avanti, avanti, niente vai sperimenta usami usami usami